Ciao a tutti, questo è un invito alla lettura del libro di Laura Goleman e Daniel Cooper intitolato Psicologia nera e manipolazione mentale, 5 libri in uno. Introduzione Il primo libro di questo bundle affronta il tema della psicologia oscura e della manipolazione mentale. Dato che questi temi danno anche il nome all'intero bundle, avrai già intuito la loro importanza. Ho deciso di iniziare questa serie di 5 libri partendo proprio dall'argomento principale che costituirà il tratto comune di tutti i libri. Per introdurre l'argomento voglio farti riflettere sui meriti e sui vantaggi che può darti lo studio delle discipline contenute in questo libro. Comprendere i dettagli e gli sviluppi contemporanei della psicologia oscura e della manipolazione è utile in almeno due modi. Per prima cosa si tratta di temi molto dibattuti al giorno d'oggi. Se vuoi essere una persona sempre aggiornata e pronta ad affrontare diversi argomenti, non puoi evitare di conoscere a fondo la psicologia oscura. In secondo luogo, conoscere a fondo la psicologia oscura e la manipolazione della psiche è il primo passo per affrontare con consapevolezza i manipolatori e gli individui mossi da cattive intenzioni. Dal posto di lavoro fino alle comuni relazioni tra le persone, passando per i rapporti amorosi, la mentalità malvagia si può annidare ovunque. Conoscere i meandri più oscuri della mente umana, dunque, è un ottimo modo per affrontare il pericolo. Questo libro non soddisferà solamente la tua curiosità teorica, ma conterrà anche esempi utili a capire, a livello pratico, le arti della manipolazione mentale. Voglio dedicare una piccola parte di questa introduzione al libro per fare un po' di chiarezza intorno ai termini che andremo ad analizzare più nel dettaglio nel corso delle pagine che stai per leggere. Quando si affronta un argomento denso e importante come quello della psicologia oscura e della manipolazione psichica, infatti, è necessario iniziare rendendo chiari ai lettori i concetti fondamentali. Il primo capitolo, dunque, avrà come obiettivo farti comprendere i concetti fondamentali che vedremo non solo in questo libro, ma nell'intero bundle. Anche per questo motivo ti sconsiglio vivamente di saltarlo. Lo stesso discorso vale per il secondo capitolo, dove ti presenterò le basi della psicologia oscura. I capitoli successivi di questo primo libro, invece, trattano argomenti più specifici. Io ti consiglio comunque di seguire l'ordine in cui li troverai esposti nel libro, ma sei libero di scegliere. So che sei desideroso di iniziare ad apprendere, quindi preferisco non indugiare e iniziare subito con il primo capitolo. Presta molta attenzione a ciò che stai per leggere, perché stai per addentrarti in un mondo tanto affascinante quanto potenzialmente pericoloso. La psiche umana contiene più misteri e segreti dell'intero universo, quindi mi aspetto che rimarrai sorpreso da molti dei contenuti che stai per incontrare. Alla fine di questo libro, gli argomenti, psicologia oscura e manipolazione, non avranno più segreti per te. Capitolo 1 Che cos'è la psicologia oscura? Che cos'è la manipolazione mentale? Come puoi facilmente immaginare, la psicologia oscura è uno dei settori disciplinari della psicologia. In altri termini, puoi considerare la psicologia oscura come una branca della psicologia. A sua volta, la psicologia è lo studio della mente umana, della psiche, del cervello e dei processi interni che portano gli esseri umani ad agire in certi modi. Sono certo che troverai interessante conoscere l'origine del termine psicologia. Il finale della parola non dovrebbe stupirti. Come in molte altre discipline, il suffisso logia indica lo studio di una materia. Ma di quale materia si parla nel caso specifico della psicologia? Che significato etimologico possiede la radice psico? La risposta ti incuriosirà. In greco antico, la parola psiche o psico indicava l'anima. Nel mondo antico, infatti, non si conosceva ancora l'importanza del cervello negli esseri viventi e in particolare negli esseri umani. Per questo motivo, per i greci, la vita risiedeva nell'anima. Dunque, la psicologia, letteralmente, è lo studio dell'anima. Al giorno d'oggi sappiamo che l'anima è un concetto religioso e non scientifico, ma il nome psicologia è rimasto per indicare lo studio del comportamento umano e dei processi del pensiero. La psicologia si occupa sia dei pensieri volontari, come quelli associati ai ragionamenti consci, sia di quelli involontari, che vengono spesso classificati come inconsci. Un esempio di un pensiero conscio è So che sta piovendo. Questo pensiero viene formulato in modo consapevole e solitamente non ci sono processi nascosti che ci portano a questi ragionamenti. I ragionamenti inconsci, al contrario, avvengono nelle nostre menti senza la nostra consapevolezza. Questo non vuol dire che sia impossibile riconoscere un pensiero inconscio. Come ti ho già detto, infatti, la psicologia cerca di riconoscere e analizzare anche questi tipi di ragionamenti. Un intero capitolo di questo libro sarà dedicato alla teoria dell'inconscio proposta da Freud all'inizio del Novecento. In questo primo capitolo, tuttavia, voglio presentarti un'altra teoria psicologica molto conosciuta. Ti sarà utile per capire meglio ciò di cui parlerò nei prossimi capitoli. Sto parlando della teoria del prospetto. La teoria del prospetto. Il comportamento umano viene acquisito con l'apprendimento, quindi la nostra decisione di compiere un'azione oppure di evitarla dipende dai pro e i contro associati a quella determinata attività. In altre parole, crescendo, impariamo a valutare il nostro comportamento e ad agire di conseguenza. Queste frasi racchiudono il significato principale della teoria del prospetto. In questo paragrafo voglio parlartene in modo più approfondito. Nel 1979, Daniel Kahneman e Amos Zversky pubblicarono il loro studio sulla teoria del prospetto. Questo studio viene considerato tra i più importanti lavori sulla capacità decisionale. Anche per questo motivo preferisco parlarne subito. La teoria del prospetto è un ottimo esempio della potenza del nostro inconscio nei nostri processi decisionali, ma anche della capacità dei processi psichici nascosti di modificare la percezione della realtà. Secondo quanto studiato da Kahneman e Tversky, infatti, i processi nascosti della psiche di ogni individuo intervengono per modificare la percezione della realtà. In particolare, la teoria del prospetto dimostra come gli esseri umani possiedono una naturale avversione verso i concetti di perdita e sconfitta. Infatti, tendiamo tutti a focalizzare la nostra attenzione sugli elementi positivi, tralasciando spesso gli elementi negativi che percepiamo. Questa teoria dimostra l'importanza dei processi inconsci della mente. Ci mostra quanto siano illogici i nostri pensieri. Ecco un esempio che ti renderà il concetto facilmente comprensibile. Considera il gioco d'azzardo e il mondo delle scommesse. Uno scommettitore accanito non riesce a considerare razionalmente le perdite e i guadagni economici che ottiene o subisce con le sue scommesse. Anche se perde molto denaro, tenderà a concentrare l'attenzione sulle rare occasioni di vincita. Come puoi notare tu stesso, si tratta di un comportamento irrazionale e antieconomico. Questi elementi di irrazionalità sono tra gli oggetti di studio principali della psicologia oscura. La teoria del prospetto infatti getta le basi per molte teorie recenti della psicologia oscura. In effetti, ricerche come quelle di Kahneman e Zversky ci aiutano a capire quanto ancora ci sia da comprendere sui lati più nascosti e oscuri della mente umana. La definizione di psicologia oscura La psicologia oscura ha molto da spartire con la psicologia tradizionale dei processi inconsci. La psicologia oscura infatti studia i processi mentali dietro alle azioni che consideriamo maligne o cattive. La psicologia oscura quindi può essere definita come la scienza che studia i meandri più malvagi della mente umana. Inoltre, si tende anche a usare il termine psicologia oscura anche per indicare i tratti maligni che le persone talvolta manifestano. Per esempio, si usa il termine psicologia oscura per parlare della psicopatia, del narcisismo e della manipolazione mentale. Vedremo tutto questo più nel dettaglio nei capitoli che seguiranno. Per ricapitolare, dunque, la psicologia oscura è sia la branca della psicologia che studia i processi cognitivi alla base delle azioni malvagie operate dall'uomo, sia il termine che si riferisce ai tratti malvagi delle persone. Ora abbiamo una comprensione più accurata dell'oggetto di questo libro. Parleremo dei processi mentali che portano le persone a compiere azioni terribili e moralmente sbagliate, ma anche della scienza che studia tali processi. La definizione della manipolazione mentale Se hai letto con attenzione il titolo di questo capitolo, dovresti anche aspettarti di trovare una definizione di manipolazione mentale. Ebbene, questo termine si riferisce a quell'insieme di tecniche e operazioni mentali utilizzate per influenzare il comportamento degli esseri umani. Alcuni individui, e in particolare coloro che presentano dei tratti tipici della psicologia nera, sono in grado di utilizzare delle pericolose tecniche mentali per influenzare e manipolare i nostri pensieri. In questo bundle di libri non troverai solo una definizione e una spiegazione delle tecniche di manipolazione più comuni, ma troverai anche un elenco di sistemi di difesa che puoi mettere in atto per difenderti. Alcuni individui malintenzionati mettono in atto opere di manipolazione mentale su ignare vittime. Sfortunatamente, identificare i manipolatori mentali non è un compito semplice. Essi si nascondono anche agli occhi più attenti. In più, spesso i manipolatori mentali occupano posizioni di potere e sono difficili non solo da identificare, ma anche da smascherare. Questo accade perché raccogliere prove su di loro può essere molto difficile. In genere, infatti, i manipolatori mentali esperti si presentano come figure affidabili e benigne. Quando avrai finito questo bundle, mi auguro che tu sappia non solo riconoscere i manipolatori mentali, ma anche smascherarli e impedire che altre persone cadano vittime dei loro trucchi psichici. Considerazioni finali Questo capitolo ti ha presentato in modo chiaro i termini che saranno i protagonisti di questo libro. Dopo aver fatto chiarezza, siamo quindi pronti per andare avanti con la trattazione della psicologia oscura. Dopo aver affrontato in modo approfondito i temi legati alla psicologia oscura, dedicherò delle ampie parti di questo libro alla manipolazione mentale. Capitolo 2 Cosa sta alla base della psicologia oscura? La psicologia oscura è un campo di studi in cui si sta ancora facendo molta ricerca. Abbiamo poche certezze riguardo a questo ambito di studi e i ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando per fare luce su alcuni degli elementi meno chiari. Nonostante questa premessa, non devi pensare che non si sappia nulla a proposito della psicologia oscura. Al contrario, sono già stati fatti alcuni passi importanti nella direzione della comprensione delle sue strutture fondamentali. In questo capitolo vedremo quali sono i tratti distintivi di questa disciplina psicologica e in che senso possiamo riconoscerne gli aspetti fondamentali. Cosa sta alla base della psicologia oscura? E come possiamo imparare a riconoscere chi, tra le persone che conosciamo, presenta dei tratti tipici della mentalità malvagia? Uno dei tratti fondamentali della psicologia oscura è la sua universalità. Le ricerche scientifiche, infatti, dimostrano che ognuno di noi possiede almeno alcuni tratti, alcuni tra i tratti tipici della psicologia oscura. Attenzione, con questo non voglio dirti che tutti noi siamo dei potenziali psicopatici, né che ognuno di noi possa trasformarsi all'improvviso in una persona totalmente malvagia. Il punto fondamentale riguardo all'universalità della psicologia oscura è un altro. Questa affermazione significa che alcuni dei tratti tipici della psicologia oscura sono presenti in modo innato e non dipendono da come cresciamo e da cosa o da chi veniamo influenzati. Alla nascita ognuno di noi possiede alcune caratteristiche, anche in minime parti, tipiche della psicologia oscura. Non voglio spaventarti con questa affermazione, si tratta semplicemente di un dato scientifico, frutto di accurate ricerche. Bisogna inoltre distinguere azioni scorrette e compiute per raggiungere un certo scopo dalle azioni negative che vengono compiute senza apparente motivo. Purtroppo molte persone attraversano nella loro vita dei momenti difficili e in alcune occasioni per raggiungere degli obiettivi sono quasi costrette a comportarsi in modo moralmente scorretto. Questi atteggiamenti, seppur condannabili e comunque sbagliati, non sono casi di manifestazione della psicologia oscura che alberga, anche in minima parte, dentro ognuno di noi. Le azioni che vengono spinte dalla psicologia oscura sono frutto di motivazioni inconsapevoli e inconsce, compiute solo ed esclusivamente per soddisfare un bisogno quasi primitivo di malvagità. Come abbiamo già detto, ognuno di noi ospita nella propria mente alcune tendenze a sviluppare comportamenti sbagliati. Nella gran parte dei casi, però, queste tendenze malvagie vengono soppresse dai nostri ragionamenti consci. Alcuni individui, invece, non hanno un senso della moralità sufficientemente sviluppato e quindi agiscono impulsivamente pur di soddisfare queste loro pulsioni. Dopotutto si tratta di pulsioni difficili da combattere. In tenera età, però, quasi tutte le persone vengono educate al fine di avere la forza necessaria di sopprimere queste pulsioni. Anche tu sei stato educato dai genitori e dalla società a non rispondere a tutte le situazioni in modo impulsivo e malvagio. Alcuni individui, invece, non hanno avuto la possibilità di crescere in ambienti favorevoli allo sviluppo di adeguate difese psichiche e per questo motivo sono ancora in preda alle pulsioni più malvagie tipiche della psicologia oscura. Questo libro e i successivi testi della raccolta ti insegneranno a capire come riconoscere queste persone pericolose, evitarle e difenderti in caso di attacchi psichici. Non lasciare che questi individui ti facciano sentire in pericolo. Il continuum oscuro Per continuum oscuro si intende uno spettro di possibilità psichiche che va dall'immensamente malvagio alla bontà più assoluta. Come ho già spiegato, in ognuno di noi abita una parte malvagia dotata di volontà cattiva. Questa parte malvagia è intenzionata solo a far soffrire gli altri talvolta portando all'autodistruzione del soggetto che la ospita. La psiche di ognuno di noi può essere posizionata all'interno del continuum oscuro che costituisce una sorta di spettro di possibilità. Realisticamente è quasi impossibile che un individuo sia interamente malvagio o interamente buono. Al contrario, in ognuno di noi sono presenti due forze che spingono in direzioni opposte. Possiamo immaginare il continuum oscuro come una linea numerata che va da 0 a 100. Un individuo interamente malvagio si collocherà sullo 0, mentre uno interamente buono si collocherà sul 100. Molti di noi ottengono dei punteggi intorno al 50, vale a dire un giusto mezzo tra la malvagità pura e l'assoluta bontà. Come ho già scritto, è quasi impossibile incontrare persone che totalizzino lo 0 o il 100 sullo spettro di possibilità. Realisticamente tendiamo a incontrare persone intorno al 50, cioè a metà dello spettro. Dobbiamo però iniziare a preoccuparci se la psiche della persona con cui stiamo interagendo si colloca sotto al 30, poiché questo potrebbe segnalare la presenza di un individuo pericoloso. Più ci si avvicina allo 0 del continuum oscuro, infatti, più si possiede una mentalità interamente malvagia. Psicopatici, assassini, manipolatori psichici e individui malintenzionati possiedono tutti valori di continuum oscuro sotto al 50. Chiaramente un assassino possiede un valore più basso di un individuo con intenzioni molto meno malvagie se rapportate all'omicidio. Per esempio, chi compie piccoli furti è generalmente intorno al 40, mentre gli assassini si pongono sotto al 30 sulla scala fornita dal continuum oscuro. Se sei una persona curiosa, sospetto che tu ti stia chiedendo c'è qualcuno peggiore degli assassini? Perché questi ultimi si collocano appena sotto il 30? Cosa possiamo dire di chi arriva sotto al 10 sulla scala del continuum? Se ti sei posto queste domande, sei vicino al concetto che ti spiegherò nel prossimo punto. La singolarità oscura. La singolarità oscura è un concetto sviluppato dai ricercatori per indicare quei casi, presenti quasi esclusivamente solo a livello teorico, di caratteri interamente negativi e malvagi. Chi si trova sullo zero dello spettro che ho descritto prima, fa parte della singolarità oscura. Come ho anticipato, si tratta di un concetto teorico che è quasi impossibile da incontrare nella realtà. Tuttavia, questo modello teorico estremo ci aiuta a capire quali individui si avvicinano di più alla singolarità oscura. E ci sono sicuramente gli individui più pericolosi e potenzialmente distruttivi. Anche senza arrivare allo zero del continuum oscuro, gli individui più malvagi possono arrivare a compiere i crimini più efferati. Gli individui che presentano il livello inferiore al 10, per esempio, sono davvero tra i più pericolosi. Devi assolutamente tenerti alla larga da queste persone benché non raggiungano la singolarità oscura. Nel secondo libro di questo bundle troverai quattro esempi di persone che si avvicinano pericolosamente alla singolarità oscura. Se sei curioso, puoi andare direttamente a leggere la loro storia. Troverai tutte le informazioni che stai cercando nei capitoli centrali del secondo libro. Come scoprirai in questi capitoli, assassini e serial killer possiedono diverse gradazioni di carattere e si collocano in punti diversi del continuum oscuro. È assai probabile che nemmeno i criminali più terribili raggiungano lo zero sul continuum oscuro, e quindi la singolarità oscura. Il concetto di singolarità oscura è comunque importante per definire tutti gli altri numeri presenti sul continuum. Ricapitolando, la singolarità oscura è semplicemente un elemento teorico che non trova riscontro nella realtà. Tuttavia, si tratta di un valore fondamentale per comprendere tutti gli altri valori presenti sulla scala del continuum oscuro. La legge del più forte Dopo aver esaminato più da vicino questi concetti fondamentali per chiunque voglia approfondire l'argomento della psicologia oscura, è quasi giunto il momento di passare a indicare brevemente alcune figure storiche che possedevano tratti evidenti tipici della psicologia oscura. Il momento è quasi giunto perché prima vorrei introdurre un altro concetto di cui forse hai già sentito parlare anche se potresti non conoscerne i dettagli. Mi sto riferendo alla cosiddetta legge del più forte di ispirazione darwiniana. Charles Darwin fu un famoso biologo, scienziato naturale e filosofo che introdusse nella comunità scientifica dell'epoca, siamo intorno al 1848, alcuni concetti veramente rivoluzionari. Non è questo il luogo per parlare di tutte le scoperte scientifiche operate da Darwin nel corso della sua lunga carriera accademica. Ciò che voglio nominare qui è la legge del più forte che Darwin teorizzò osservando come solo gli esemplari più forti delle varie specie potessero arrivare all'età della riproduzione e portare effettivamente avanti la specie. In un certo modo possiamo dire che la legge del più forte coinvolge anche noi esseri umani. Dopo millenni di evoluzione il nostro patrimonio genetico si è perfezionato sempre di più e la legge del più forte. Solo gli individui con delle caratteristiche più forti riescono a trasmettere il loro codice genetico alle generazioni future. Come si collega questo discorso alla psicologia oscura? Ebbene gli individui che presentano dei tratti legati alla psicologia oscura presentano una psiche poco adatta alla sopravvivenza. In effetti pare che questi individui vadano contro la legge del più forte. In realtà c'è una spiegazione molto semplice a questa apparente contraddizione. Gli individui dalla psicologia oscura particolarmente pronunciata sono effettivamente inadatti alla sopravvivenza. raramente riescono a riprodursi e trasmettere il loro codice genetico a qualcuno. Questo accade perché nelle loro decisioni e azioni sono così distruttivi da risultare pericolosi anche verso se stessi. In questo modo tali individui non riescono nemmeno ad agire coscientemente in vista del raggiungimento degli obiettivi. La parte inconscia e istintiva della loro personalità prende il sopravvento rendendoli incapaci di sottostare alla legge del più forte e sopravvivere. Perciò nonostante gli individui dotati di tratti oscuri siano estremamente pericolosi non ci sono buone ragioni per credere che essi siano forti. La loro sete di distruzione infatti vi porta a essere così tanto pericolosi da rappresentare un danno anche per se stessi. Riepilogo finale In questo capitolo hai imparato gli aspetti fondamentali che stanno alla base della psicologia oscura. In particolare hai imparato a conoscere l'universalità della psicologia oscura insieme al fatto che alcuni tratti psicologici malvagi sono innati e inevitabili, la differenza tra azioni sbagliate ma eseguite per raggiungere un fine specifico e le azioni malvagie in modo cieco vale a dire non in vista di un obiettivo ben determinato individui che presentano evidenti tratti psicologici oscuri infatti spesso vanno persino contro i loro stessi interessi. Il concetto di continuum oscuro che introduce uno spettro di valutazione dei tratti psicologici di ognuno il continuum oscuro va da 0 a 100 la singolarità oscura un concetto teorico molto importante per la ricerca ma che è fortunatamente quasi impossibile da incontrare nella realtà la legge del più forte di Darwin applicata alla psicologia oscura che mostra come gli individui i contratti tipici della sfera della malvagità siano inadatti alla sopravvivenza. Ora è finalmente il momento di affrontare da vicino alcuni esempi storici che presentano i tratti distintivi tipici della psicologia oscura. Capitolo 3 La genealogia della psicologia oscura sviluppi storici In questo capitolo affronteremo il tema della psicologia oscura che ci accompagnerà per il resto del libro da un punto di vista genealogico. Per genealogia si intende lo sviluppo storico di un concetto. Voglio subito mettere in chiaro che la genealogia può essere fatta sia in modo puramente teorico sia prendendo in esame alcuni casi storicamente celebri. Una genealogia teorica è come una storia che viene raccontata per spiegare l'origine di un concetto. Questa storia però non è necessariamente accaduta nella realtà. Al contrario una genealogia può prendere in esame un caso realmente accaduto e considerarlo come esempio per spiegare un concetto in maniera efficace e concreta. Genealogie teoriche Voglio farti un esempio di genealogia puramente teorica che racconta l'introduzione nella specie umana di quelli che il celebre psicologo austriaco Sigmund Freud chiamava tabù. Questa teoria di Freud è presente nel libro Totem e tabù che ti consiglio di leggere se sei interessato alla psicologia in generale e alla psicologia oscura in particolare. Secondo Freud gli individui appartenenti alla specie umana non nascevano già dotati di alcuni concetti che noi riconosciamo come fondamentali. In particolare Freud credeva che i concetti morali più importanti fossero il processo dell'evoluzione dell'uomo e non che l'uomo nascesse conoscendo già tali concetti. Questo significa che i concetti morali non sono innati ma sono appresi durante lo sviluppo. Tra i concetti morali ci sono i divieti. Prendiamo in considerazione due dei divieti che riteniamo più socialmente accettati. Il divieto di incesto e il divieto di omicidio. Qualunque individuo che si collochi a un livello anche solo mediocre sul continuum oscuro riconoscerà senza dubbio che l'incesto e l'omicidio siano due crimini abominevoli. Ebbene Freud pensava che incesto e omicidio non fossero immediatamente riconoscibili come orrendi crimini tra le prime generazioni di esseri umani. Per spiegare come a livello storico incesto e omicidio siano diventati dei veri e propri tabù Freud elabora la seguente storia che riassumerò di seguito. L'origine dei tabù di incesto e omicidio In origine tutti gli esseri umani di sesso femminile erano di proprietà dell'individuo più anziano e più forte della tribù. Questo individuo veniva individuato con il nome di Alfa a indicare il fatto che era il primo della sua specie. L'Alfa aveva a disposizione tutte le donne della tribù erano di sua proprietà e nessuno poteva avere rapporti con esse all'infuori di lui. In questo modo tutti i nuovi individui di sesso femminile che nascevano erano però figli dell'Alfa il quale era l'unico a poter mettere incinta le donne della tribù. Così facendo a lungo andare l'Alfa iniziava ad avere rapporti con le sue stesse figlie. A un certo punto questo fatto non venne più accettato dai membri della tribù che decisero di mettere insieme le forze e ribellarsi alla supremazia dell'Alfa. Insieme riescono a superare la differenza di forza e a uccidere l'Alfa così facendo liberano le donne dalla schiavitù dell'Alfa stesso. A questo punto però introducono due divieti due tabù appunto per evitare che si ripeta una situazione tremenda come quella in cui vivevano. Da una parte bandirono i rapporti tra persone della stessa famiglia il divieto dell'incesto dall'altra bandirono l'omicidio per impedire che un solo individuo prendesse il sopravvento il divieto dell'omicidio. Di generazione in generazione si perse l'origine di questi tabù oggi considerati come fondamentali ed evidenti per gli esseri umani. Questa storia fittizia ma che forse nasconde un fondo di verità serviva a Freud per evidenziare il fatto che alcuni concetti che noi umani riteniamo fondamentali e innati siano in realtà il frutto di un certo percorso evolutivo. Ciò che ora riteniamo ovvio è in realtà il frutto di una serie di decisioni umane. Questo è molto rilevante per la psicologia oscura. Da una parte ci fa capire come ognuno di noi nasconda un fondo di malvagità latente che viene però generalmente ma non sempre soppresso attraverso l'evoluzione e l'educazione. Dall'altro ci fa capire che alcuni concetti morali come i divieti di fare certe azioni abbiano un'origine molto pratica e concreta. Questo ultimo discorso si collega direttamente con un altro importante pensatore il quale ha una grande importanza per la nascita della psicologia oscura intesa come branca della psicologia. Te ne parlerò qui sotto. Ci fu un pensatore filosofo e classicista che portò questo ragionamento alle sue estreme conseguenze. Nel libro Umano troppo umano il grande autore Friedrich Nietzsche scrisse che tutti i nostri concetti morali che fanno riferimento a ordini cosmici e divini hanno in realtà un'origine umana fin troppo umana. In modo molto provocatorio Nietzsche voleva dire che anche quando crediamo di compiere delle buone azioni per un principio superiore stiamo in realtà rispondendo a decisioni prese in passato da individui che non pensavano affatto di soddisfare delle divinità o dei principi ultraterreni. Secondo Nietzsche anche i nostri concetti più profondi e radicati hanno in realtà avuto origine da situazioni molto pratiche come quella di vietare l'incesto e l'omicidio nel racconto di Freud al fine di preservare la famiglia. forse non c'è davvero nulla di nobile o eticamente valido c'è solo il seguire modelli imposti nel passato per superare difficoltà molto pratiche e niente affatto nobili. Con questo non voglio dirti che dovresti rinunciare a credere nella religione o in principi cosmici al di là di quelli umani ho voluto però riportare il pensiero di una delle figure più controverse della storia delle idee. questo aspetto era fondamentale per farti capire come nella storia ci siano state persone che si collocavano nella fascia bassa del continuum oscuro e cercavano di minare le convinzioni degli esseri umani pur mettendo al servizio della conoscenza e della scienza la propria intelligenza. Le persone che presentano tratti tipici della psicologia oscura sono tutt'altro che ignoranti o poco intelligenti. Anzi di solito possiedono caratteristiche che le rendono carismatiche e capaci di produrre ragionamenti perfidi ma corretti. Vedremo nei capitoli successivi come certe persone utilizzino tecniche di manipolazione mentale. Solitamente queste persone sono anche molto intelligenti e capaci di mascherare le loro vere intenzioni. Figure storiche Pensando alla storia reale alcuni studiosi affermano che i famosi personaggi storici possedevano tratti tipici della psicologia oscura vedremo successivamente quali siano le caratteristiche più evidenti della psicologia oscura come narcisismo e psicopatia ma possiamo anticipare che tra i più famosi dittatori della storia molti possedessero i tratti più tipici della psicologia oscura l'imperatore romano Caligola crudele e folle la famiglia dei Borgia ricca di cospiratori e assassini persino alcuni componenti della chiesa romana come Bonifacio VIII tutti questi individui hanno ceduto alla psicologia oscura e non sono stati capaci di resistere alle pulsioni più estreme non deve stupire il fatto che non siano stati in grado di lasciare eredi nel mondo la loro pulsione di morte li ha portati all'autodistruzione più completa anche nella storia recente abbiamo casi ancora più evidenti di persone o gruppi di persone cadute preda della psicologia oscura Hitler Stalin gli individui a capo dei campi di concentramento i fanatici religiosi i terroristi in un modo o nell'altro tutti questi personaggi hanno ceduto alla seduzione del lato oscuro che alberga dentro ognuno di noi ho voluto scrivere questo capitolo contenente alcuni cenni storici sulla psicologia oscura per farti capire che questo libro non vuole parlare di concetti teorici lontani dalla realtà in questo libro voglio affrontare e farti comprendere concetti che sono fin troppo presenti nella nostra quotidianità il mio intento è far luce sul concetto di psicologia oscura e manipolazione mentale in modo da insegnarti come evitare gli individui capaci di pensieri e azioni abominevoli e per mostrarti come difenderti in caso tu sia già entrato in contatto con essi molto bene questo è tutto spero che l'estratto vi sia piaciuto fatemi sapere se leggerete il libro grazie mille per l'attenzione alla prossima grazie a tutti